Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine, solito, classico, usuale e consueto della mia libreria, da me, dal mio smanicato da combattimento e da uno dei piccoli cimeli della mia collezione di maglie da calcio, ovvero sia l'elegantissima maglia da allenatore dello SV Spezbach 1920, squadra delle serie minori tedesca, diciamo particolarmente figa questa maglietta nero-giallonera. Come ben sapete ho deciso di dedicare una piccola serie di video a quello che accadde alla preparazione tra virgolette del 25 luglio 1943, vi ho già parlato dei 28 attori della seduta del Gran Consiglio, i personaggi più o meno noti, gli uomini che facevano parte del consesso supremo del regime fascista, i 28 personaggi che si sedettero nel tavolo a ferro di cavallo attorno al duce. Ma com'era la situazione italiana in quel periodo lì? Ne parlano libri veramente a tonnellate, se vogliamo. Il più famoso è Forse nudi alla meta di Aldo Lualdi, libro di cui ho fatto le recensioni, un libro di memorialistica. Ricordatevi sempre, la memorialistica va presa sempre con le pinze, va sempre valutata con attenzione, però quel libro, ripeto, è utile per capire com'era la situazione del paese durante la guerra. Altro libro che vi consiglio di leggere a proposito del periodo precedente al 25 luglio 1943 è Rapporto al duce di Giordano Bruno Guerri, dove sono contenuti i verbali delle sedute, delle udienze fatte dal duce con i federali fascisti tra il 1942 e il 1943. E lì si ha il polso della situazione e credetemi ne emerge da quel libro, ne ho parlato più volte e vi consiglio caldamente di recuperarlo, ne emerge lo specchio di un paese che è ormai allo sfascio e di un regime che è in avanzato stato di decomposizione. Occorre ricordare, come ho detto più di una volta, che il regime Mussolini, togliamo il regime Mussolini, volle che la seconda guerra mondiale, volle che la partecipazione italiana alla seconda guerra mondiale fosse catalogata come guerra fascisti di fascisti per fascisti per il fascismo. Era la guerra del fascismo, lo disse lo stesso Mussolini. E come ho già detto questa formula fu deleteria perché anche coloro che pur non essendo fascisti e ce n'erano volevano comunque sia, si sentivano patrioti e volevano fare il loro dovere in guerra, si pensero semplicemente, ma un momento, ma chi me lo fa fare a combattere per i fascisti e con i fascisti? Perché se la combattano loro questa guerra? Scattò questo meccanismo, inutile negarlo. Opportunismo? A me ha fatto più che altro la figura del marito che si taglia i gioielli di famiglia per fare un dispetto alla moglie. Ecco, diciamo che questo insistere sulla guerra fascista tarpò veramente ogni spirito in coloro che credevano poco nel regime ma che comunque sia avevano amore di patria. E Grandi durante la seduta del Gran Consiglio definì la formula della guerra fascista come cretina e autolesionista. Ci sono le memorie di Grandi e ci sono le memorie degli altri presenti alla seduta del Gran Consiglio. Insomma, la guerra fascista non era particolarmente sentita dal popolo italiano, ma credo sia utile parlarne con un brano del quarto volume di quest'opera. La seconda guerra mondiale di Enzo Biagi, curata da Giuseppe Maida e da un validissimo team di collaboratori. Un'opera divulgativa che ha il pregio di essere una delle migliori indubbiamente mai scritta negli ultimi 50 anni qua in Italia. Un utilissimo punto di partenza, un'opera estremamente chiara dove si esplica molto bene la cronologia degli eventi. Maida ci spiega che dal 40 al 43 la situazione del popolo italiano in guerra degenerò pesantemente. Alle restrizioni, ai tesseramenti, alla mancanza di tutto, si accompagnava un durissimo apparato poliziesco che colpiva prevalentemente i piccoli trasgressori e i piccoli speculatori. Sulla carta erano previste pene severissime per i reati più gravi, per il mercato nero e soprattutto per la violazione della norma sulle valute. In alcuni casi era addirittura prevista la pena di morte. Se vi recuperate nuovamente, se vi recuperate rapporto al Duce di Giordano Bruno Guerri, troverete proprio i resoconti di alcune sedute del Duce in cui lui si vanta di aver fatto fucilare questo o quello per mercato nero come se fosse il tizio al bar che dice «Ah, se ci fossi io al comando, li ammazzerei tutti, li fucilerei tutti», eccetera. Quando in realtà la situazione era grave, anzi gravissima. Ricordatevi che Daciano Mussolini scrisse al padre che in Sicilia nel 1943 si moriva di fame e che non c'era più niente e che la colpa era del partito fascista siciliano che era incapace di badare ai bisogni della popolazione. Ok? Allora, ma come regolarmente succede nel nostro paese, spesso il rapporto, per esempio, tra la polizia annonaria e i trasgressori si traduceva in una specie di gioco a guardie e ladri, in cui quasi sempre il trasgressore aveva la meglio facendosi beffe dell'autorità. E al di là del comprensibile compiacimento di molti per la vendetta dell'eterno pantalone nei confronti dello stato vessatorio che aveva gettato il paese nel baratro della guerra, questo stato di cose contribuiva a distruggere sempre di più ogni residuo dispetto del cittadino per la legge. Mentre il risvolto più deteriore era la corruzione dilagante intorno al fenomeno del mercato nero. Insomma, signori, già che il regime fascista era un regime particolarmente corrotto, con la fame nera la corruzione dilagò letteralmente. Il PNF, almeno ufficialmente, aveva cercato di reagire alla degradazione del paese e al crescente disfattismo. Autunno 1941 viene lanciata la cosiddetta mobilitazione civile che riguardava 8 milioni di persone, dai 18 ai 55 anni. Ci sarei rientrato anche io che ho appena fatto i 55 anni. Va bene. Allora, dicevo, accidenti a questi occhiali che si piegano, porca miseria, scusate. Non me li tolgo più. Ok. Allora, questi 8 milioni di persone si trovavano così registrati, pronti ad essere destinati a compiti per i quali non esisteva però un minimo di programmazione. 8 milioni di mobilitati. Come li usiamo? Abbiamo 8 milioni di mobilitati. Sì, ma come li usiamo? Abbiamo 8 milioni di mobilitati, ma non sapevamo come usarli. Un grande classico dell'era fascista, diciamoci la verità. In un secondo tempo era stata prevista anche la mobilitazione delle donne. In giro, commentava Ciano, c'è un certo disagio anche perché non si capisce bene di che si tratta e si teme che sia un doppione del lavoro obbligatorio dei tedeschi. Ma se il partito promuove questa campagna per combattere l'individualismo disfattista deve innanzitutto badare al suo interno dove i tiepidi e i dubbiosi si moltiplica. Ebbene sì, signori, perché anche nel PNF durante il periodo della guerra tirava una gran brutaria. Ripeto, procuratevi e leggetevi il rapporto al duce di Giordano Bruno Guerri, mi raccomando. Ci faccio riferimento perché il ritrovamento storiografico fatto da Guerri è sensazionale. E quei documenti sono proprio l'analisi della putrefazione del regime fascista. Un corpo in disfacimento, una carcassa putrescente in quel periodo. Allora, ottobre 1940. Ettore Muti viene rimosso dalla carica di segretario del PNF. Un anno prima aveva sostituito Starace. Dalla padella alla brace. Starace era un idiota, ma era un grande organizzatore e aveva il polso del partito. Muti sinceramente no. Lo stesso Mussolini lo riteneva un inetto come politico e lo sostituì con Adelchi Serena che al momento della nomina era ministro dei lavori pubblici. Ma anche Adelchi Serena dura molto poco. Il partito ha bisogno di un elemento galvanizzante che sia capace di farlo diventare l'elemento animatore di un fronte interno sempre più ostile al regime. Fine dicembre 1941. Tocca ad Aldo Vidussoni che viene presentato così nel diario di Ciano. Segretario del PNF è diventato un certo Vidussoni. Medaglia d'oro, 26 anni, è laureando in legge. Altro di lui non vi saprei narrare. Ma sarà ancora una scelta infelice, l'ennesima, perché Ciano annota il 26 febbraio del 42 che dice «Temo che questo Vidussoni, che non capisce niente, dia nuove e pericolose sterzate. Vito Mussolini, che era nipote del Duce, che ha avuto ieri un colloquio con lui e che è un giovane prudente, mi ha detto di essere rimasto ugualmente sorpreso dall'idiozia, dall'ignoranza e dalla inutile cattiveria del segretario del partito». Come diceva Farinacci, caro Benito, tu quando hai bisogno di qualcuno scegli sempre il più fesso. Vidussoni, poveretto, studente che non studiava, ex combattente in Spagna dove aveva perso una mano, venne scelto solo perché era un combattente decorato, senza alcuna capacità, senza alcuna presa sul partito. Io ho letto qualche cosa sulla figura di Vidussoni e devo dire che per lui prova una profonda pena perché non era all'altezza del compito e soprattutto, come diceva Ciano, non capiva niente e soprattutto non voleva capire niente. Allora, le preoccupazioni di Ciano erano per la presunta sterzata a sinistra che Vidussoni e i duri e puri del partito volevano dare al regime. Gli elementi più ostili alla monarchia e al compromesso con la grande proprietà e la chiesa erano stati messi in disparte per vent'anni e ridotti al silenzio negli anni d'oro del consenso. Ma nel momento della difficoltà, nel momento in cui la guerra va male, perché nel 1942 si sa già che la guerra è perduta, lo sapevamo già che la guerra era perduta nel 1942, già nei primi mesi del 1942. C'era speranza qualcosa, ma in realtà la guerra era già perduta e i più accorti se ne erano già capacitati, ecco, detta così com'è. Dicevo, i puri e duri del fascismo, dopo essere stati messi in disparte per vent'anni, tornavano ora a Galla reclamando quel ritorno alle origini necessario a loro modo, a loro modo di vedere, per controbattere l'apatia del paese, mettere la monarchia e soprattutto la persona di Vittorio Emanuele III, notoriamente pessimista sulla guerra fin dall'inizio, con le spalle al muro. Dar mano ad una serie di nazionalizzazioni che togliessero di mezzo gli imprenditori privati, pavidi e disfattisti, e magari, non lo so, dare anche un'occhiatina ai conti della Fiat? Sì, lo so, sono fissato, va bene. Era, insomma, una specie di rivoluzione, o per meglio dire il compimento, dal loro punto di vista, di quella del 28 ottobre 22, che reclamavano gli elementi intrassigenti del partito, molti dei quali avrebbero poi realizzato in parte i loro progetti per breve tempo e in clima di guerra civile durante la Repubblica di Salò. Ma allora, tra il 41 e il 42, Vidussoni non era certo l'uomo capace di prendere la testa di un si fatto movimento rivoluzionario e neanche Mussolini ne era in grado, perché Mussolini era eternamente indeciso, timoroso di fare salti nel buio, a parte quando si trattava di dichiarare guerra. Insomma, 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 che vi devo dire, mai una decisione presa ragionando, sempre decisioni prese d'impulso e quando era il momento di ragionare andava nel panico. Mussolini era fatto così. Mussolini non intendeva rompere l'equilibrio con quelli che fino ad allora erano stati i suoi veri alleati. E ricordiamoci una cosa, se gli oltransisti del partito volevano fare piazza pulita di monarchia e grande industria, Mussolini era molto indeciso nell'affrontare i suoi veri grandi alleati che gli avevano consentito di prendere il potere, ovvero sia proprio la monarchia, ovvero sia proprio le grandi imprese, ovine famiglie che noi ben sappiamo. Ok, ok, ok. Così la rivoluzione non c'era stata, mentre continuavano a moltiplicarsi le restrizioni imposte dalla guerra e dal suo andamento estremamente negativo. Alla fine di marzo 1942 la razione base del pane era stata diminuita di 50 grammi, per i lavoratori semplici era di 250 grammi al giorno, per quelli pesanti 350, per quelli pesantissimi 450 grammi di pane al giorno. Cioè voi immaginatevi un operaio, fonditore o minatore delle miniere di carbone della Carbosulcis che deve campare con meno di mezzo chilo di pane al giorno. Poi chiedetevi perché il regime è così collassato, chiedetevi perché la gente ha fatto festa il 25 luglio. Ok, 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 ok. Una successiva correzione aveva portato a un aumento di 50 grammi pro capite al giorno. Questo per i ragazzi dai 7 ai 18 anni e per le tre citate categorie di lavoratori. C'era stata anche una straordinaria, una distribuzione straordinaria di 10 chili di patate che poi era diventata una regola fissata in 15 chili per persona di patate ogni sei mesi. E ripeto, chiedetevi perché il 25 luglio la gente ha fatto festa, chiedetevi perché in Sicilia gli americani e gli alleati erano accolti come liberatori, forse perché se no sarebbero morti di fame. Allora, i prodotti della terra erano ormai tutti soggetti a denunce andavano portati agli ammassi e non soltanto quelli di grandi consumi, di grande consumo. Tutti erano severamente razionati. Era stato imposto un tipo unico di zucchero, ovviamente a strettissimo razionamento, costituito per il 30% di prodotto di cristallino di fabbrica e per il 70% di prodotto raffinato. Il 43 vede la proibizione della produzione di caramelle e quella della fabbricazione e della vendita di liquori e di birra. La birra. Va bene. Eccezione fatta per la produzione destinata alle forze armate. La gente lamentava il fenomeno dell'accaparramento fin dall'inizio della guerra. Ora il regime colpiva accaparratori e speculatori, ma il rigore arrivava con eccessivo ritardo, quando ormai pur di procurarsi più cibo, la maggior parte della popolazione era venuta a patti con il mercato nero. Così, quando si dà molta pubblicità ad alcune condanne esemplari per traffico illecito, si ottiene l'effetto contrario. La popolazione ne è più demoralizzata che soddisfatta. Il senso della giustizia si è notevolmente ridotto, mentre cresce sempre più il desiderio di sopravvivere in qualunque modo. Nel contempo le finanze dello Stato sono al collasso, perché dopo i debiti spaventosi fatti per la conquista dell'impero dopo la catastrofe economica che fu la guerra di Spagna, l'economia bellica finisce di distruggere il bilancio dello Stato. Nel gennaio del 43 si preannuncia per l'esercizio 43-44 un disavanzo di 8 miliardi di lire e il governo continua a emettere buoni del tesoro per rastrellare denaro. Un'emissione del maggio 43 al 5% di interesse raccoglie circa 12 miliardi, questo contro i 25 raccolti nell'aprire 42 per un'emissione con interesse di un punto inferiore, con un'emissione del 4, perché la gente aveva finito i soldi. Lo Stato si era visto costretto a un certo punto anche a stampare carta moneta. Nel dicembre del 42 erano state messe in circolazione banconote da 10 lire per un totale di mezzo miliardo, ma fu una catastrofe perché si dovettero aumentare le tasse e il risultato fu un apocalisse. I poveretti lasciamo perdere la fame, la fame, la fame, la fame nera. Insomma, questo capitolo scritto da Giuseppe Maida per l'enciclopedia della seconda guerra mondiale di Enzo Biagi è, oserei dire, esemplare nel descrivere brevemente e chiaramente la situazione catastrofica in cui versava l'Italia già tra il 41 e il 42. E le responsabilità del regime fascista in questo sono enormi. Mussolini aveva affidato al partito fascista la gestione delle carte annonari, ovvero la gestione delle indispensabili tessere per ricevere beni alimentari e beni di prima necessità. E fu una gestione assolutamente disastrosa. Mi scoccia dirlo, però oggettivamente questa decisione venne presa in maniera avventata e irresponsabile da Mussolini perché creò un ulteriore caos nelle linee di comando, nelle catene della logistica, ovvero sia noi dobbiamo rifornire la popolazione, se ne occupa il partito, ma il partito con che autorità, le ferrovie, i camion, la distribuzione è in grado di affrontare questo il partito? La risposta era no. E per quanto sappiate che lo disprezzi fortemente come personaggio, Mussolini aveva cacciato l'unico capace di organizzare qualcosa, ovvero sia Starace. Lo sapete bene, Starace è passato alla storia come un totale cretino e oggettivamente lo era. Ma come organizzatore sapeva farsi valere, come organizzatore era lui il coreografo del regime, era lui l'organizzatore delle grandi manifestazioni del regime, era lui che preparava le adunate oceaniche. Come organizzatore Starace non era poi male. Starace aveva un'intelligenza limitata e come organizzatore Starace non era poi così malvagio. Sicuramente sarebbe stato come organizzatore era molto meglio di Ettore Muti, da tutti definito uno dei peggiori gerarchi fascisti di tutti i tempi, forse il peggiore segretario del PNF che ci sia stato. Adelchi Serena, una mezza figura pure lui, Vidussoni, Vidussoni che io ho letto delle cose che voleva fare, cioè Vidussoni voleva arrestare il Papa, Vidussoni voleva privatizzare, scusate, voleva nazionalizzare la grande industria, Vidussoni aveva un programma, tenetevi forte, Vidussoni aveva un programma politico e faceva delle dichiarazioni che sembravano prese pari, pari, pari da un qualsiasi pamflet comunista. La nazionalizzazione delle imprese, la guerra all'impresa privata, l'imprenditore visto come profittatore e considerato certi elementi che c'erano qua e che c'erano all'epoca belanti personaggi che manovravano la politica industriale a loro comodo, Vidussoni non aveva neanche torto, però oggettivamente, vi immaginate Mussolini che all'alta borghesia imprenditoriale, che ai grandi imprenditori, che al grande capitale, che alla monarchia e alla chiesa doveva praticamente tutto il suo potere, doveva tutto il suo, come dire, successo, doveva tutta la sua approvazione, il suo consenso. Il consenso verso Mussolini fu costruito basandosi sulla monarchia, sull'appoggio degli industriali e degli agrari e sull'appoggio della chiesa. Vidussoni voleva, vagheggiava, di togliere di mezzo queste istituzioni. Vi lascio immaginare come l'ha preso Mussolini e vi lascio immaginare anche le perplessità di uno come Ciano? Ciano che badava essenzialmente agli affari suoi, però mettiamola così, Vidussoni è un altro esempio che dà ragione a Farinacci. Vi ricordate la battuta fatta da Farinacci a proposito di uno dei suoi colleghi del Gran Consiglio del Fascismo? Che disse semplicemente, Mussolini, tu, quando hai avuto bisogno di dare un incarico a qualcuno, sceglievi sempre il più fesso. Eccone qua un esempio. E questo discorso può essere fatto anche con Vidussoni. Va bene, va bene, va bene, Farinacci, Farinacci che dà del cretino a qualcuno, è realmente il bove che dice cornuto all'asino, ma come dico sempre nel mio daletto, ma chi sim sempre tra il corra e il fuggia, ovvero siamo sempre tra il correre e il fuggire, tra il fuggire e lo scappare. Insomma, che vi posso dire? Insomma, cari signori, continueremo ad avvicinarci pian pianino al 25 luglio. Questa è una breve analisi della situazione pre 25 luglio, della disastrosa situazione pre 25 luglio. Ah, dimenticavo, Vidussoni fu poi ovviamente silurato e sostituito da Scorza che anche lui durante il 25 luglio non mosse una paglia senza ordine di Benito. Il fascismo che si fa liquidare praticamente in 448 senza opporre un singolo peto di resistenza. Che vi posso dire? Che vi posso dire? Che vi posso dire? Va bene signori, adesso come sempre tocca a voi, qua sotto come sempre commentate. Se non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi a questo maledetto canale e oltre al mio canale iscrivetevi, guardate, lo faccio realmente solo per amicizia. Dovete iscrivervi, oltre al mio, dovete iscrivervi a quattro canali. A quello di Giovanni Cecini, storico serissimo, rigoroso, con una cultura spaventosa e una capacità espositiva eccezionale. A quello di Parabellum, che è veramente uno degli youtuber storici più bravi d'Italia, forse del mondo. A quello di Peter Ironborn, che oltre ad essere un amico è un grande esperto di armi e armamenti e che, come dire, è in grado di esporre la storia militare e le vicende militari con grande chiarezza e con una profondità di analisi veramente rara. E soprattutto a quello di Vlad Sparastoria, Vlad, l'uomo più bello del mondo, per il quale, come dire, posso non essere d'accordo con lui su tanti argomenti, ma che, come dire, è una persona che quando parla di armi e di storia va comunque sia ascoltata. Allora, cari signori, ripeto, adesso tocca a voi, commentate qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere quali sono le vostre opinioni sulla situazione dell'Italia prima del 25 luglio e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. E soprattutto, ciao!